Macchina che va a staccare l'errore di Osiride Dorr. Osiride che galoppa e lascia in avanti Obama dei Ronchi. Obama leader su Poiton d'Olimpia che accenna già a muovere dalla sua scia. Sulla prima curva arriva anche dalla seconda fila Paprika Daghi che punta sui primi. Trova l'opposizione di Poiton, Paprika che insiste su Poiton, forza, allargo, numero 14, 29, i primi 400 metri. E' passata Paprika ma Poiton sembra intenzionato a riportarsi in avanti, poi ci pensa un po'. E' il numero 16 di Odeon, chiedo scusa, addirittura dalla terza fila, non si sa come è riuscito a filtrare. 44 e mezzo, è venuta comunque tesa con Poiton che torna in avanti su Odeon. Poiton, poi allargo c'è Princess AMG, 800 di gara, in 1-1. Per linee esterne anche Provenza M, numero 9, terzo in corda Obama, quarto e portento. Metà della retta opposta, Poiton che accelera su Odeon il chilometro della testa in 16,4, 14,9. Muove Provenza OM, dal gruppo prova a venir via anche Olivier Joyeuse, allargo di tutti. E Provenza e Olivier avvicinano Odeon che segue Poiton, frazione del leader, 14,4, 1,39. Odeon che prova ad affacciarsi, Poiton con tre quarti su, Odeon degli Ulivi. Poi dal gruppo prova a venir via anche per sempre Semmerizzo, allargo di tutti. La retta d'arrivo che vede Poiton alla corda difendersi da Odeon che attacca allargo. Poiton che sta ripartendo da Odeon. Poiton in vantaggio, Odeon nella sua scia. Poiton di Olimpia non si prende, fino in fondo Poiton che viene a vincere su Odeon. e al terzo il 9 di Provenza OM, 1,16,9, 2,1 scarsi. Il favorito Poiton di Olimpia, 1,15,7. Vediamo se abbiamo le immagini per anche le altre posizioni. L'affermazione non sfugge da Antonio Di Nardo, Poiton d'Olimpia, il classic photo-yacta della Mind. Mattia Orlando al training che si difende da un eccellente Odeon degli Ulivi che ha indovinato partenza pazzesca dalla terza fila per stilare in testa, confondendo anche il vostro cronista. Nel finale Poiton che vince su Odeon vediamo per le piazze. Il 9 e terzo, poi il 10 e per linea interna c'è il 5 di Pigalbaba. Quindi attenzione per il quinte perché c'è il 9 al terzo posto Provenza OM dopo l'1 e il 16. 1,16,9, poi il 10 al quarto porto di Olivier Gioius. Per linea interna c'è il 5 di Pigalbaba a precedere il 6 e l'11. Comunque tendiamo l'ordine d'arrivo ufficiale.